Amiche e amici, ben trovati per una nuova puntata di Tele Aller Milano, siamo in compagnia del nuovo Presidente di Aller Milano, Matteo Mognaschi, ben trovato Presidente. Buongiorno, buongiorno. Allora, noi oggi abbiamo deciso di fare un colloquio, una chiacchierata col Presidente in base alle tante mail che arrivano per richiedere informazioni sull'assegnazione di una casa popolare, altro non è che lo specchio di una tendenza questa che vede in forte aumento le richieste, quindi io le chiedo Presidente, cosa state facendo come Aller Milano per questa nuova tendenza? Sì, grazie, intanto tengo a precisare il fatto che le domande sono molto numerose, parliamo di circa 8-10 mila richieste di alloggi all'anno rispetto alle quali riusciamo, almeno in 30 degli ultimi due anni, circa 1.600-1.700 assegnazioni, quindi sicuramente una tematica molto sentita sulla città di Milano, come del resto è abbastanza risaputo, stiamo mettendo in piedi una serie di misure, di azioni, ovviamente sono azioni per le quali ci vorrà del tempo, però per esempio un'azione, un esempio concreto che è venuto e sta venendo comunque alla luce e addirittura di arrivo, per esempio il contratto di quartiere di Pioltello, un lavoro di circa 5 milioni di euro, sono 39 alloggi, un'idea di edilizia popolare, come dire, moderna e innovativa con un edificio per servizi, una piazza, comunque non solo l'edificio in sé, ma anche i servizi intorno, comunque le strutture per poter, quindi un'idea di comunità, che è poi quello che noi cerchiamo sempre di affermare e quindi ovviamente sono 39 alloggi, non risolvono diciamo la cosa, ma è un esempio di quello che stiamo facendo, sicuramente numeri importanti su Milano, c'è da dire però appunto assegnazioni in crescita diciamo negli ultimi anni e ovviamente uno dei temi che presidiamo con maggiore attenzione, perché ovviamente è la nostra mission principale, quella di dare casa a questa fascia di utenti che si rivolgono a noi. Chiaro, io vi ricordo che la rubrica Il Presidente risponde continuerà naturalmente nelle prossime settimane, la mail è il Presidente risponde chiocciolaaler.mi.it, mentre per lo staff di Telealer avete la mail stampa chiocciolaaler.mi.it. Ringrazio naturalmente e auguro buon lavoro al Presidente Mognaschi. Grazie. E noi ci rivediamo alla settimana prossima. Grazie.